La marineria pescarese è tornata in mare. Dopo la sospensione dello stato di agitazione, i pescherecci hanno tolto gli ormeggi. Restano irrisolti però tutti i problemi che stanno causando un grave danno economico alla marineria, ormai alle prese con una situazione economica insostenibile. Il caro gasolio è solo l'ultimo scoglio da superare dopo due anni di pandemia e la problematica dei bassi fondali del porto. Il problema è che siamo rimasti come Abruzzo isolati da tutto il resto d'Italia perché hanno ripreso domenica notte il mare. Noi in maniera democratica, io ho convocato una riunione con tutte le marinerie abruzzese, abbiamo deciso di tornare in mare perché è stata proprio una forzatura, perché i commercianti stanno andando pure alle altre regioni ad acquistare quel poco di pesce che si trovava. Quindi ci siamo trovati, oltre a danno la BEF che pur i commercianti giustamente hanno le loro attività, stanno andando via. Ma non è cambiato assolutamente niente e quindi stiamo in base allo sbando. In prospettiva che cosa potrebbe accadere? Ci potrebbe essere un abbrassamento dei prezzi del carburante, almeno questo? Ma non lo so, è troppo facile dire l'abbassamento. Questi non sanno cosa fare, la realtà è questa, è inutile che ci giriamo attorno alle faolette. Io so che l'U16, ogni azienda deve andare commercialista, piove o c'è il sole. Questi qua non si rendono conto che non è più sostenibile fare attività in questo modo qua. Quindi pure l'Europa, che tanto si parla di questa Europa, ogni volta per trovare qualcosa bisogna avere sempre il morto. Questa è la realtà. Qua ogni cosa, pure se l'ente locale ci vuole dare una mano, la regione ci sta vicino, però ogni cosa è un passaggio europeo. C'è una burocrazia, una lentezza che tu praticamente non ce l'hai. Ti ripeto, io ce l'ho dipendente, a fine mese li devi pagare, quindi che gli vado a dire? Aspetto che l'Europa sta facendo l'emendamento. Ogni cosa è un no, quindi o che rivedano le regole europee in tutto, non solo per il lavoro, in tutto. Perché qui stanno dietro di mille anni luce, voglia che dicano l'Europa, Europa. Io non è che so contro l'Europa, ma questa è un'Europa falsa. Per chiudere, il prezzo del pesce ad oggi qual è? Com'è? Non è cambiato nulla, perché il potere d'acquisto delle famiglie a terra, anzi, si è abbassato di nuovo, perché la scala mobile non esiste, il dipendente cambia sempre lo stesso. Qua l'unica che non me la vogliono male è chi è che sta bene, sono tutti gli statali, perché è inutile che si lamentano, perché almeno nella disgrazia loro a fine mese lo stipendio ce l'hanno sempre. Questa è la realtà di questo Paese. Questa è la realtà di questo Paese.